La bella stagione porta con sé una buona notizia e una cattiva per gli amanti del mare. La buona notizia riguarda la decisione di allungare la stagione balneare che si proterrà quindi per sei mesi pieni. La Regione ha infatti deciso a prendere il via, è stato il primo di aprile, per concludersi il 31 di ottobre, anziché dal primo maggio al 30 settembre. Dietro la pressante richiesta degli operatori del settore, il decreto è favorevole in questo senso ai gestori degli stabilimenti e delle attività collegate alla balneazione. Non si può dire che la situazione sia invece a favore di chi ama il mare e quello agrigentino nello specifico. Il provvedimento firmato dal direttore generale dell'Ispettorato Sanità Ignazio Tozzo e dall'assessore Lucia Borsellino, reca infatti anche degli allegati e per ciascuna delle otto province di mare i tratti di costa in cui è preclusa la balneazione per inquinamento o per altre motivazioni. Dai 184 tratti di mare inquinato dell'anno scorso per l'intera stagione si passa a 187. I tre nuovi punti non balneabili sono tutti in provincia di Egrigente, che così dalle 17 zone con divieto di balneazione nel 2014 si attesta sulle 20 preclusi ai bagnanti nel 2015. Nel resto della Sicilia, giusto per dare una visione complessiva del dato, a guidare la classifica è Palermo con 41 aree. Seguono Siriacusa con 36, Catania con 27, Messina 22, Caltanissetta 20 e Trapani 8. È possibile anche, secondo quanto ha comunicato la Regione, servirsi del sito del Ministero della Salute per controllare quali spiagge e tratti di costa siano fruibili. Qui dovrebbero essere costantemente pubblicati i campionamenti che, iniziati già il primo di marzo, dovrebbero proseguire fino al 31 ottobre con cadenza mensile. Grazie. 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 Grazie.